Musica Thomas De Min, ex dell'incontro che la pallacanestro Crema sosterrà contro l'Urania Milano, domenica pomeriggio alle 18, allora ex e non avrà il piacere di trovare molti compagni dall'altra parte della barricata, solamente il tuo ex capitano Paleari. Sì, purtroppo per scelte personali o per scelte della società tutto il gruppo dell'anno scorso è stato sfaldato, quindi loro hanno dovuto ricostruire praticamente da zero, hanno costruito quella che all'inizio dell'anno era definita una corazzata, hanno avuto qualche problema di infortunio, stanno avendo qualche problema di infortunio, è chiaro che loro servirà della chimica e del tempo per trovarsi. Due squadre che devono rifarsi dopo essere rimaste al palo nella prima giornata di campionato. Sì, sì, beh, è chiaro che essendo in casa nostra ci siamo ripetuti tutta la settimana che il nostro campionato dovrebbe cominciare questa settimana qui, perché siamo in casa nostra davanti al nostro pubblico e è chiaro che vorremmo uscire domenica sera con una vittoria e con due punti. Dalle tue parti agirà probabilmente Tortù oltre a Paleari, forse l'uomo più in forma dell'Urania, lo conosci e hai già capito come affrontarlo? Beh, tutti i loro lunghi sono pericolosi, da Paleari a Tortù a Ingrosso, sono tutti quanti personaggi importanti di grande levatura, di grande caratura, di conseguenza sono molto importanti per il loro gioco, gestiscono molti palloni, sanno giocare, capiscono il gioco, quindi per noi lunghi sarà veramente una sfida molto importante. Cosa vorresti cambiare della tua squadra rispetto alla partita di domenica? La voglia, il carattere, la grinta, il cuore. Non ci possiamo permettere di andare sotto come siamo andati sotto contro 100, ripeto perché siamo in casa nostra, siamo davanti al nostro pubblico, è la prima partita in casa, non possiamo permetterci, non abbiamo le caratteristiche per recuperare tutte le partite sempre partendo da meno 20, non si può, di conseguenza bisogna mettere subito in campo grinta, cuore e cercare di portare a casa un risultato importante. Un duello fondamentale per l'esito dell'incontro? Beh, sarà sicuramente vincere la partita ai rimbalzi, tenere, ribattere botta contro botta subito i primi minuti e poi cercare di andare via verso fine del terzo quarto, inizio quarto quarto e poi giocarsela con calma verso la fine del quarto quarto.